Luca, numero 2, Messa Gabriele, numero 3, Lampis Mattia, numero 4, Vazzo Gabriele, numero 5, Donofrio Matteo, numero 6, Cocciu Claudio, numero 7, Nico Manuel, numero 8, Amadu Mattia, con numero 22, Sogiu Lorenzo, con numero 13, Zai Michele, con numero 69, Vacca Francesco, con numero 29, Rocca Stefano, con numero 7, Serra Ruda Edoardo, numero 40, Salvatore, numero 27, Badalà Federico, numero 77, Sanna Marco, numero 55, Melis Federico, numero 11, Cucetto Matero, numero 10, Cogoni Emanuele, numero 24, Cogoni Alessio, dirige l'incontro signor Melis. Matteo, si in campo basso, Mattei, più alto, più alto, più alto. Grazie a tutti. 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 Bravo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.